eccoci qua siamo live siamo in diretta ciao a tutti ciao ragazzi buonasera allora come al solito collegati qualche minuto prima del nostro appuntamento delle diciotto così aspettiamo un po' di persone che si collegano e poi vi presento quelli che sono i nostri ospiti di questa sera ospiti speciali su un tema fondamentale che tocca un po' tutti noi che eh lavoriamo insomma che abbiamo una vita sempre impegnata e che vogliamo eh raggiungere i nostri obiettivi nel miglior modo possibile quindi allora prima di iniziare ehm aspettiamo un po' di persone che si collegano e intanto eh mentre ci sono un po' di persone che si collegano di nuovo eh vi eh presento quelli che sono i nostri ospiti Nicola e Attilio ciao ragazzi benvenuti ciao Alessandro grazie mille grazie grazie Alessandro e ciao a tutti allora intanto che aspettiamo un po' di persone che si collegano facciamo due chiacchiere noi così poi dopo alle diciotto iniziamo entriamo un po' nel vivo di quello che è il tema di oggi quindi il tema di oggi sarà la gestione del tempo allora nel frattempo io chiedo alle persone collegate di darci un ok diteci se ci sentite se l'audio è tutto a posto se è tutto ok così eh siamo insomma già già facciamo un po' di prove tecniche prima di partire con l'argomento e perché parliamo proprio della gestione del tempo vero ragazzi assolutamente assolutamente è un tema eh veramente che prende prende quasi tutti chiunque eh sostanzialmente lavora o comunque appunto è eh una persona soprattutto se è una persona appunto intraprendente determinata insomma eh si troverà prima o poi si scontrerà ecco con la difficoltà di doversi organizzare di dover gestire il tempo di dover essere il più efficace possibile eh già eh già eccoci qua infatti oh e salutiamo Enrico buonasera eh Andrea dice ciao Alessandro ti sentiamo benissimo grazie Andrea poi Enrico dice tempo che è sempre poco esatto Enrico si sente perfetto molto bene sì sì il tempo è sempre poco questa è una roba ragazzi siamo siamo proprio sommersi da questa da questo urlo di di disperazione di alcune persone insomma che ci dicono proprio che ci vorrebbero giornate di 48 ore per fine e tutto poi ne parleremo appunto all'interno di questa di questa live ah hai sentivo praticamente un video di di Arnold Schwarzenegger no fantastico c'è un video motivazionale se non l'avete visto ragazzi andate cercatevelo perché è su YouTube è veramente bellissimo e lui dice non avete tempo beh dormite più velocemente ecco allora eccoci qua intanto salutiamo Veronica salve buonasera poi abbiamo Marco il volume degli ospiti è troppo basso allora ragazzi non so io vi li sento bene non so se voi riuscite ad avvicinarvi leggermente un po magari al microfono tutto che è un po basso Nicola vediamo ok vediamo se adesso mi sentite meglio ok vediamo prova a Tiglio sì mi sentite ok quando si ricoprono se adesso vediamo se se si sente se i ragazzi ci danno feedback Veronica dice quando si ricoprono più ruoli nella vita il tempo non basta mai immagino Veronica questo vale anzi a maggior ragione anche per voi donne no che avete magari a volte qualche ruolo in più questo lo possiamo dire ok allora dateci un feedback anche sull'audio di Nicola e Attilio come vedete Attilio è mutato perché prendete Nicola e Attilio sono nella stessa stanza però con due computer allora condividerò che non si vede ma è così questo è il bello ok ok perfetto allora io penso che l'audio sia migliorato ok Veronica comunque mi avvicino il microfono così magari mi sentite meglio e poi quando parlate io insomma ok ok comunque ha detto Veronica che si sente benissimo eventualmente perfetto ok allora ragazzi io direi di iniziare così vi ripresento nuovamente facciamo perché poi dopo questa diretta andrà anche in podcast e allora iniziamo la la diciamo il podcast da zero ok allora ciao a tutti ragazzi buonasera qui Alessandro Bentivoglio e benvenuti in questa puntata di marketing 18 dove andiamo a parlare del tema più caldo del momento cioè il tempo la gestione del tempo e quindi come facciamo ad organizzare meglio il nostro tempo per raggiungere i nostri obiettivi e lo facciamo insieme a Nicola ed Attilio ciao ragazzi buonasera ciao Alessandro buonasera a tutti ciao ciao Alessandro benvenuti ecco adesso sentiamo Attilio più basso vabbè comunque bene allora come dicevo prima perché Nicola e Attilio sono alla stessa stanza ma con due computer allora cerchiamo di bilanciare l'audio allora ragazzi per partire appunto con il tema della gestione del tempo perché è un tema fondamentale per tutti cioè tutti siamo toccati da questo aspetto del tempo che non è mai abbastanza ci vorrebbe una giornata più lunga e così via però prima di entrare nel vivo di quello che è l'argomento che non vediamo l'ora di scoprire raccontateci un po' come mai cioè come siete arrivati a questa diciamo consapevolezza della gestione del tempo cioè qual è il percorso che vi ha portato a dire ok lavoriamo sulla gestione del tempo sì allora inizio ti racconto in breve sintesi un po' qual è il nostro il nostro percorso allora noi considera che siamo fin da quando avevamo 18 anni siamo stati studenti lavoratori all'università quindi comunque la mattina studiavamo il pomeriggio eravamo chiusi all'interno di un call center dove ci siamo conosciuti con le cuffie di plastica a vendere delle proporzioni telefoniche chiaramente senza stipendio fisso solo a provvigioni quindi comunque lì dovevi veramente dare il massimo se volevi produrre e portarti dei soldi a casa a fine mese e la sera poi tornavamo appunto sui libri a studiare con diciamo tutte le difficoltà del caso e già da lì chiaramente c'era il primo problema sulla gestione del tempo perché da un lato dovevamo avere ottimi risultati all'università dall'altro dovevamo avere ottimi risultati al lavoro considera che al call center era un part time ma diciamo poi diventava un full time tendenzialmente perché c'erano le giornate in cui non guadagnavi eccetera comunque essendo venditore quando c'era da guadagnare costavi molto pur di sfruttare l'occasione quindi lì abbiamo avuto le prime difficoltà ci siamo trovati veramente in crisi perché stavamo per abbandonare tutto non avevamo risultati personalmente io ci sono stato un anno dato zero materie all'università per farti capire non riuscivo nemmeno a superare un esame Attilio ci riusciva ma con con lentezza cioè magari superava uno quando tutti gli altri andavano a quattro e quindi da lì quando stavamo veramente per mollare tutto da un confronto continuo che chiaramente ci ha permesso anche di conoscerci di iniziare fin dall'inizio questa bella amicizia che poi si è trasformata anche in nel rapporto diciamo lavorativo ci siamo detti noi dobbiamo trovare una soluzione in questo da lì cercando comunque eravamo sempre stati dei ragazzi intraprendenti quindi studiando della crescita personale eccetera poi arrivi a capire che esiste un lato di formazione nel mondo che parla proprio di gestione del tempo non universitario non universitario esatto da lì ci siamo messi a studiare investire veramente tutti i soldi che prendevamo che guadagnavamo al col center investivamo in corso di formazione in libri sul time management e la gestione del tempo il problema però di questa cosa è che la maggior parte di questi libri erano chiaramente americani o comunque tradotti dall'america in italiano ed erano principalmente per imprenditori manager non per studenti universitari quindi da lì la prima difficoltà è stata prendere quei concetti e a riadattarli e applicarli in quello che per noi potevano essere le nostre esigenze da studenti da lì diciamo lavorando insieme confrontando eccetera avevamo creato un metodo una prima bozza di metodo che essere che aiutava noi a diciamo essere più produttivi sia nello studio sia al lavoro riuscendo a conciliare tutto senza appunto rinunciare alla nostra vita sociale perché capisci bene che dei ragazzi a 18 19 20 anni sono nel nel vivo della loro vita e quindi non vogliono rinunciare a tutto quello non vogliono nemmeno rinunciare all'università tutto nato per tre più esami all'inizio almeno è tutto un'altra storia a un certo punto da lì veramente la svolta riusciamo a dare a riprendere il passo cioè a superare tre quattro esami considera che io studiavo economia attilio giurisprudenza quindi comunque facoltà diciamo abbastanza difficili a un certo punto riprendiamo la marcia fino a che siamo riusciti a laurearci in tempo con il massimo dei voti per quanto riguarda attilio io con 105 su 110 ma comunque in tempo entro tre anni avendo lavorato questa cosa chiaramente noi ha attirato le attenzioni diciamo di chi ci stava attorno su di noi perché dice ragazzi ma voi siete alieni come fate a fare tutto quel tutto questo e continuare a dare gli stessi esami che diamo noi da lì noi abbiamo volevamo comunque avevamo da sempre la voglia di aiutare gli altri di migliorare anche di trasferire quello che sapevamo che avevamo scoperto alle altre persone aiutando comunque a risolvere appunto delle loro problematiche da lì diciamo prima ancora di essere laureati avevamo lanciato proprio dentro l'università una piattaforma per studenti universitari di scambio di appunti proprio che aiutava i studenti lavoratori come noi a trovare gli appunti degli esami eccetera quindi quella era stata la prima nostra iniziativa imprenditoriale e a fianco abbiamo affiancato tutta la parte di contenuti quindi di trasferire sostanzialmente abbiamo iniziato con dei video youtube in cui raccontavamo un attimo quello che avevamo scoperto sulla gestione del tempo un po' il nostro metodo chiaramente che allora era veramente una bozza perché non però questo ha tirato veramente tantissimo l'attenzione degli studenti proprio a livello nazionale su di noi e da lì abbiamo diciamo iniziato a insegnare queste cose qui quindi a iniziare a insegnare proprio quello che su di noi stava funzionando tant'è che appunto abbiamo scritto dei libri abbiamo fatto dei corsi di formazione sui studenti quindi avevamo la nostra prima azienda a 23 24 anni la nostra prima azienda di formazione per studenti universitari adesso ne avete 26 adesso siamo poco poco più grandi abbiamo io 28 e ti leo 29 però sì siamo lì quello che è successo è che una volta diventati imprenditori quindi comunque avevamo diversi clienti che erano dei studenti che compravano i nostri prodotti l'assistenza i fornitori e tutto quanto la piattaforma eccetera e da lì ci siamo improvvisamente ritrovati nuovamente nel caos siamo stati appunto di livello diciamo esatto i studenti organizzati a imprenditori dove il metodo che utilizzavamo da studenti chiaramente non funzionava era un'altra cosa cambia nel frattempo chiaramente all'inizio della nostra attività imprenditoriale continuavamo a lavorare comunque con altre aziende a collaborare con altre aziende sia da dipendenti che come collaboratori esterni come professionisti perché chiaramente lì all'inizio hai bisogno anche di fare un attimo cassa un po come puoi per portare avanti quello che è il tuo progetto e questo chiaramente ci ha fatto veramente trovare a un livello di caos nuovamente e allora ci siamo detti ok come mai quello noi erano tanto organizzati all'università avevamo finalmente trovato tutto ciò che ci serviva e adesso quel metodo non funziona più cosa è successo da lì abbiamo ripreso nuovamente tutto ciò che avevamo come materiali l'abbiamo nuovamente ristudiato con una consapevolezza diverso chiaramente da imprenditori abbiamo nuovamente investito per accedere a formazioni di più alto livello chiaramente ovvio quindi studiando con formatori americani comunque chiaramente con percorso di più avanzati e abbiamo da lì ripreso le basi di quello che era un attimo il metodo ma riadattato a una realtà imprenditoriale quindi sulle esigenze di con esigenze diverse imprenditore ok quindi diciamo che dall'esigenza dall'esigenza la determinazione la motivazione di avere più ruoli perché in quel caso volevate lavorare studiare e quindi avere una vita sociale e così via dove vedo che tra l'altro anche veronica qui si identifica pienamente dice eccomi studentessa e mamma che cerca di avviare il suo business da zero ma questo come ha detto Nicola appunto vale anche per chi è già magari imprenditore che sta già ha già un' azienda quindi fondamentalmente avete fatto il percorso chiaramente alla base una grande diciamo voglia di crescere e di imparare quindi voglia di sapere no di migliorare continuo e poi la cosa bella che secondo me hai detto è proprio il fatto che nella vita le cose cambiano cioè non imparato un metodo sì ok in quel momento va bene però poi dopo magari risalgo al livello successivo e questo penso che sia proprio la vita di ognuno soprattutto degli imprenditori che ogni volta si trovano di fronte degli ostacoli importanti da diciamo che ci costringono a riadattarci diciamo ad una situazione nuova ecco assolutamente assolutamente appunto giusto per capire un attimo proprio come siamo arrivati avendo la nostra il nostro metodo che poi ha iniziato a funzionare nuovamente su di noi da imprenditori anche lì diciamo abbiamo attirato questa cosa cioè il fatto che avevamo quella mole di contenuti che riuscivamo a creare abbiamo scritto due libri chiaramente in un anno considera libri che sono diventati best seller su amazon eccetera ha attirato l'attenzione di alcuni imprenditori da alcuni personaggi magari anche nel mondo della formazione su di noi che conoscendo hanno detto ma voi come fate a creare 766 solo voi due e create tutto questo a quel punto siamo stati invitati diciamo un evento di formazione di un imprenditore che insomma a questo di lavoro e da lì noi non avendo chiaramente nulla da proporre semplicemente con la nostra esperienza questo ha attirato tantissimo l'interesse di tutte le persone che sono lì che si identificavano chiaramente nelle nostre problematiche e che anche se noi chiaramente non avevamo nulla per gli imprenditori in quel momento hanno iniziato ad acquistare i libri che avevamo fatto per gli studenti giusto per dire vada io qualcosa mi è piaciuto io voglio imparare qualcosa voglio qualcosa dammi qualcosa esatto c'è stato appunto chiesto a quel punto no guarda non facciamo questo attualmente però abbiamo visto che anche lì c'era un forte interesse perché in quello che dicevamo le persone lo iniziavano ad applicare ad avere dei risultati tuttavia chiaramente non avevamo moltissime paure questo non te lo nego anche perché è una cosa che funziona su di noi noi avevamo una realtà che comunque era circoscritta la lavoravamo noi due non è che avevamo non volevamo avere la presunzione ecco di poterlo insegnare agli altri tuttavia quello che abbiamo fatto è stato riunire una cerchia ristretta di imprenditori selezionati in diverse situazioni in diversi contesti in diversi settori chi era già con un'azienda strutturata chi era da solo chi era all'inizio e da lì dopo veramente mesi mesi e mesi quasi un anno di test pratici sul campo proprio a fianco a fianco con loro andando a perfezionare il metodo abbiamo creato quello che oggi è il metodo ercole che è quel metodo che ha funzionato che ha prodotto risultati in ogni singolo caso bellissimo bellissimo metodo a insegnarlo ai studenti oggi chiaramente aiutiamo gli imprenditori abbiamo aiutato in questo anno centinaia e migliaia di imprenditori in tutta italia a creare ad applicare questo metodo perfetto bellissima storia nicola allora adesso chieda a attilio qual è secondo te cioè perché è così importante la gestione del tempo cioè perché diciamo che siamo portati a studiare tantissime cose no però se dovessimo scegliere la gestione del tempo perché secondo te una persona dovrebbe scegliere di migliorare la propria gestione del tempo diciamo se così si può dire se si può gestire il tempo ecco sì allora guarda intanto ti dico un po' più vicino una cosa fondamentale una cosa fondamentale che di come mi sono accorto appunto in tutti questi anni è stata che proprio l'evoluzione che c'è stato sia negli ultimi anni a livello tecnologico non c'è da un lato sicuramente ci ha avvantaggiati quindi ci ha permesso sicuramente di connetterci con tantissime persone riuscire a collegarci appunto con persone che magari non vediamo da tantissimo tempo con i nostri stessi clienti magari prima dovevi andare dovevi uscire fuori a incontrare un cliente adesso basta chiamarlo al telefono oppure basta addirittura mandare un materiale su whatsapp o su messager ormai connetterti con facebook eccetera eccetera se questo da un lato chiaramente ha registrato un'evoluzione anche sotto il profilo appunto degli rapporti all'altro lato c'ha un attimo reso la vita molto più problematica se un cliente mi trova adesso su whatsapp online e mi ha scritto un messaggio che non visualizzo si incazza perché ma come è online e non mi risponde e quindi questo chiaramente può creare diciamo delle aspettative ma le si conciliano poi con sia il fatto che posso lavorare in modo produttivo ma dall'altro lato che possa portare avanti appunto la mia vita privata quindi diciamo che questo ha comportato un ripensamento di come noi ogni giorno viviamo sia le nostre vite dei imprenditori degli professionisti ma anche la nostra vita privata e quindi il tempo per noi la gestione del tempo che cosa fa in questa connice ti aiuta non solo a avere modo di focalizzare le tue attenzioni quando lavori riuscire a dare alle persone quello che vogliono senza che chiaramente questo significhi cannibalizzare tutto ciò che fai durante il giorno quindi il lavoro che effettivamente svolgi dall'altro lato assicurando per te però anche il tempo che è fondamentale appunto vivere sotto il profilo privato sia per te che per le persone che ami quindi per la tua famiglia quindi la gestione del tempo ti dà il controllo assoluto su tutto il tempo e su dove questo tempo deve essere messo per far sì che sia produttivo tanto in termini lavorativi quindi benefici lavorativi in un ritorno economico ma anche appunto un ritorno emotivo sentimentale per le persone che ami anche per te appunto perfetto certo assolutamente quindi quello che ci stai dicendo Attilio è che la gestione del tempo chiaramente riguarda un po' tutti gli aspetti della vita che insomma noi già lo immaginiamo no ma chiaramente non è solo per quanto riguarda il lavoro per avere comunque dei risultati migliori ma questi risultati dobbiamo averli in maniera un po' equilibrata in tutto quello che è l'aspetto diciamo della vita umana no quindi personale tempo libero vita professionale lavorativi e così via ma soprattutto la cosa importante che ci hai detto è che è ancora più importante oggi visto che siamo bombardati continuamente da notifiche distrazioni cioè siamo sempre online e in più a causa del periodo comunque che stiamo vivendo il problema dello smart working per insomma se così lo vogliamo chiamare questo ci causa ancora diciamo ulteriori problemi cioè dobbiamo siamo portati ad affrontare qualcosa che non avevamo mai gestito prima quindi dobbiamo di nuovo reimparare a gestire un po' quello che stiamo facendo per non essere poi vittime no di questa situazione diciamo esattamente sì perfetto perfetto ottimo allora ragazzi visto insomma la vostra bellissima storia piena di chiaramente motivazioni e successi perché una persona dovrebbe venire da voi cioè ovviamente ci sono tante persone che magari all'interno dei percorsi libri di formazione così via insegnano la gestione del tempo anch'io chiaramente nei nostri percorsi di formazione ci sono tanti argomenti che parlano poi della gestione del tempo ma cosa vi rende diversi cioè qual è diciamo la promessa che fate cos'è che date di diverso rispetto agli altri a chi si affida a voi cioè a chi segue quello che è il vostro metodo il metodo che avete creato sì allora ti dico alessandro considera che il metodo ercole che appunto ti ho ti ho annunciato prima il metodo ercole il primo metodo di gestione del tempo per imprenditori creato in italia cosa significa tutti i metodi di gestione del tempo ad oggi presenti sul mercato sono tendenzialmente americani quindi che vengono dalla realtà italiana americana anche perché il time management è una che tendenzialmente è stata creata o comunque ufficializzata ecco lì e la maggior parte dei metodi appunto sono americani pensati innanzitutto per tendenzialmente imprenditori o manager ma al di là di questo il problema è che quei metodi non sono applicabili in italia nel senso che chiaramente a livello concettuale qualcosa di buono è ovvio che ci sia però a livello di metodologia non è applicabile in italia per una serie di fattori il primo fattore per esempio il contesto imprenditoriale cioè in italia il contesto imprenditoriale è completamente diverso dall'america l'america è un territorio chiaramente in cui pro impresa l'italia è un paese è un paese catto comunista in cui chi è l'imprenditore visto magari male e viene piuttosto che essere facilitato e aiutato magari viene diciamo gli viene resa difficile la vita proprio grazie alla burocrazia infinita siamo il secondo paese considerato in europa con la più alto grado di burocrazia c'è tutto un contesto anti imprenditore in più considera che in america diciamo la dimensione delle aziende molto più grande a livello medio cioè in italia il 97 per cento di imprese sono piccole medie imprese di sua micro imprese dove spesso l'imprenditore da solo magari con il figlio la moglie il cognato messo magari come la moglie all'imministrazione il cognato magari come venditore quella è un po la realtà italiana è una realtà fatta di partite ive una realtà fatta di commercianti di gente veramente in gamba gente veramente determinata gente veramente che si sbraccia e che si è creata da sola solo che chiaramente parliamo di piccole micro addirittura imprese la maggior parte sono micro imprese in america quando si parla di una piccola impresa si parla di un'impresa che magari c'ha 200 250 dipendenti è comunque una realtà diversa parliamo di una realtà diversa assolutamente è una realtà completamente diversa a differenza diciamo di tutti gli altri metodi che appunto vengono all'america e alle volte sono detti così come sono alle volte cercano di essere quanto meno adattati appunto al mercato italiano il metodo verco è l'unico metodo che è stato creato a partire dalla realtà italiana quindi noi non abbiamo fatto abbiamo preso metodi americani abbiamo tradotti o le abbiamo riapplicate quello che abbiamo fatto è stato creare un nostro metodo che poi abbiamo consolidato con una cerca ristretta di imprenditori in situazioni diverse e quindi la metodologia è nata proprio a partire dalle loro esigenze quindi c'era chi doveva avviare da zero chi aveva già un'impresa chi aveva pochi collaboratori chi ne aveva tanti chi era solo chi era sposato e quindi chi era una donna aveva anche dei figli quindi magari aveva un ruolo da mamma c'erano diversi ruoli e quindi chiaramente nasce dalla realtà italiana questo ci consente oggi di produrre risultati continuamente su ogni singolo studente grazie al fatto che appunto parte da quella realtà parte magari dal libro professionista con qualche collaboratore una cosa in aggiunta rispetto a questa cosa Alessandro se mi permetti c'era legata diciamo al ai tipi di imprenditori che noi con cui noi ci rivolgiamo noi abbiamo noi insegniamo la gestione del tempo dico sempre agli idraulici insegniamo la gestione del tempo agli architetti gli ingegneri a chi ripara caldaie e se da un lato questo magari fa sorridere per il fatto che magari una gestione del tempo la pensa a livello cioè quando pensi al time management pensi sempre ad una disciplina diciamo burocratica formale teorica noi ci opponiamo a tutto questo spiegando proprio a queste a questi queste partite IVA a questi professionisti come riuscire a disbrigarsi a rimanere in vita a sopravvivere in interruzioni continue e marasma questo è quello che noi facciamo sì sì che poi prima di iniziare con la diretta appunto dicevamo che c'è un metodo per c'è dedicato all'imprenditore un metodo dedicato poi a chi magari svolge un ruolo diverso manager dipendente e così via allora ragazzi questo è bellissimo perché chiaramente in base ad ogni esigenza ed ogni situazione chiaramente c'è una gestione specifica questa secondo me è una delle caratteristiche molto importanti io vorrei entrare un po' nello specifico innanzitutto vorrei dire a tutte le persone che ci stanno guardando che se avete delle domande ce le potete fare qui in diretta quindi avete l'opportunità di avere appunto Nicola Attilio qui pronti a rispondere alle domande su questo tema che ragazzi è un tema caldissimo per tutti noi vorrei dare dei suggerimenti ragazzi cioè diamo qualche suggerimento pratico che le persone possono già applicare cioè quali sono quelle diciamo spunti interessanti facili da mettere in pratica già domani per avere subito magari già qualche miglioramento allora guarda intanto un problema fondamentale di tutti gli imprenditori è quello che non quando lavorano hanno in mente tutta una serie di problemi e campanellini d'allarme che continuano a pulsare dentro la loro testa e gli fanno esplodere il cervello quindi una prima cosa fondamentale che noi proprio spieghiamo all'inizio di uno dei programmi formativi online che appunto noi noi abbiamo è un esercizio semplicissimo si chiama esercizio della liberazione è un esercizio che ti permette di prima di iniziare a lavorare prima di fare qualsiasi cosa quindi prima di pensare di metterti lì a scrivere mandare email eccetera eccetera la prima cosa che devi fare è scrivere tutto ciò che hai in testa tutto ciò che in questo momento ti sta assillando che magari non ti ha fatto dormire la sera prima che hai paura di dimenticare o che devi dire ai colleghi collaboratori soci su un foglio di carta quindi rovesciare tutte queste questi campanellini che continuano a squillare non ti permettono di essere sereno in quell'attività che in realtà devi iniziare a fare che può essere qualunque tipo di attività anche un appuntamento di vendita qualsiasi tipo di attività metterlo su carta quindi rovescia su questa questo questo foglio di carta su questo taccino un quaderno qualsiasi cosa tutto ciò che ti viene in mente che devi fare dovevi fare non ha dimenticato che ti è venuto in mente questo per esempio è un fenomeno che avviene quando magari ti metti a leggere un libro quante volte tra di noi si è messi a leggere un libro a caspita devo fare questa cosa qui ti defocalizzi immediatamente non passano neanche due minuti che già pensi ad altro allora prima di iniziare fai questo esercizio e dopodiché ti immergi appunto nell'attività che devi compiere un'altra cosa che volevo condividere appunto con chi ci sta seguendo proprio per riuscire a dare anche uno strumento un altro strumento aggiuntivo è che molto spesso quello che la gente non fa è bloccare del tempo per fare le attività cioè non si trova tempo perché all'interno della nostra settimana qualunque sia poi il software lo strumento specifico che sia calendar che sia outlook che sia l'agenda a prescindere dall'utilizzo dello strumento specifico non si ha una pianificazione delle attività cioè io devo devo scrivere un articolo del blog non mi metto nel mio nella mia agenda un blocco di tempo specifico per quella attività mi viene in mente di farla poi la faccio procrastino continuamente ma perché non blocco quel tempo e noi diciamo questo principio si applica anche per la vita privata la gente si lamenta molti imprenditori si lamentano non perché mi lamenta e basta ma soffrono sostanzialmente il fatto che non prendono il tempo per sé scusa ma tu l'hai pianificato nella tua settimana no quella è la cosa se tu non pianifichi il tempo libero una è come se lo stesso discorso per una vacanza se non la pianifichi che non la fai bravi stesso discorso per la vita privata per tutte le altre attività quindi pianifica blocchi di tempo specifici per l'attività che devi fare e pian piano vedrai che appunto sicuramente queste cose migliorano confermo confermo infatti io seguo già i vostri consigli da questo punto di vista infatti ho sempre un foglio di carta dove appunto le cose che mi vengono in mente perché sennò poi dopo o digitale insomma come hai detto tu al di là dello strumento questo è il primo suggerimento è veramente veramente utile anche il secondo è pianifica cioè io noi addirittura pianifichiamo con michele prima le gli spazi diciamo di vacanza durante l'anno e poi dopo nel calendario andiamo ad inserire quelli che sono gli eventi che facciamo tutte tutte le varie riunioni abbiamo bisogno perché sennò uno diceva beh la vacanza è meno importante ma in realtà no questa è un'altra cosa che noi insegniamo cioè partire a pianificare proprio dal tempo libero eh sì cioè dal tempo per te bello bello sì assolutamente queste sono veramente delle cose che ti cambiano perché nessuno te l'ha mai insegnate ma vi assicuro ragazzi che sono fondamentali allora ragazzi vediamo se ci sono delle domande se no andiamo avanti ancora per qualche minuto ancora cinque minuti prima di chiudere un po' quello che è la nostra diretta diretta sul tempo gestione del tempo secondo me sono rimasti talmente tanto così sbalorditi quello che abbiamo detto che non ci sono più domande oppure forse non hanno tempo di scrivere neanche la domanda no e no non si ha tempo di beh no diciamo eh sì sì esatto esatto vabbè comunque ragazzi sappiate che potete scrivere le domande anche dopo insomma fondamentalmente la la diretta ovviamente il bello della diretta è proprio quello noi ci mettiamo già a disposizione Alessandro eventualmente per rispondere anche diciamo in seconda battuta senza nessun problema perfetto perfetto allora ragazzi cos'altro possiamo dire sulla gestione del tempo allora io volevo aggiungere non l'ho fatto prima proprio per dare spazio alle domande volevo aggiungere un'altra tecnica che diciamo immediatamente applicabile che può aiutare sicuramente tanti imprenditori un errore che molti fanno è quello di avere strumenti diversi e quindi spezzettare le informazioni che vanno per esempio ad annotare proprio per ricollegarci un po ai due consigli di prima quindi magari mi viene una cosa in mente la sono per strada la scrivo nella nota del cellulare poi mi arriva un evento lo metto su calendar poi eh sono invece nella scrivania in ufficio e scrivo nell'agenda benissimo questa cosa chiaramente ti fa perdere automaticamente informazioni sì perché magari è fuori appunto l'ha notato lì quello che noi invece insegniamo e che consigliamo in questo caso poi noi lo insegniamo chiaramente con dei strumenti specifici che sono il piano settimanale il tappino giornaliero che fanno parte del metodo però a prescindere chiunque lo può già applicare lo stesso principio fin da subito scegliendo un unico strumento e caricando mettendo le informazioni lì cioè se lo vuoi applicare già dopo questa diretta quello che puoi fare è metti le informazioni in un unico strumento che deve essere sempre uguale nel tempo perché sai già che se vuoi quell'informazione la trovi lì altrimenti è matematico cento per cento che le informazioni si perdono sì sì confermo è verissimo Nicola guarda anch'io no sai magari lo metto su un documento poi su Trello poi su Asana poi sull'iPad e c'hai presente tutte queste informazioni poi sulla carta quindi alla fine non ti trovi più niente perché quello nasce proprio dal fatto della tecnologia che magari esce un nuovo tool che magari ti aiuta in un'altra cosa e anche soprattutto a livello di team poi magari usate trenta strumenti diversi bravissimo nessuno utilizzato per come deve essere utilizzato e non si capisce più niente meglio uno magari anche più grezzo magari anche più basico però lo utilizziamo e riusciamo ad arrivare all'obiettivo verissimo allora abbiamo una prima domanda solo che non vedo il nome perché vedo facebook user ed è come gestire le urgenze ok rispondo io e ti do due risposte la prima è breve e la seconda è un po più lunga e te la motivo la prima è in realtà l'urgenza bisogna capire che cosa significa perché molti miei studenti mi dicono ah sai non riesco a gestire le urgenze ok ma da dove nascono queste urgenze nascono dalle chiamate dei clienti ok quindi si tratta di un'urgenza soggettiva cioè il cliente ti dice guarda mi serviva entro ieri fammi questa cosa perché sto scoppiando domani ho un evento importante mi serve questa cosa qui e tu prendi tutto quello che avevi fatto la giornata che hai pianificato la butti nel cestino e ti dedica a quella cosa lì ok qui c'è un problema a monte ed è nel rapporto proprio che tu stai instaurando col cliente cioè il cliente non deve arrivare a pretendere delle cose da te questo significa che tu hai settato il rapporto con delle aspettative sbagliate a monte cioè gli hai detto guarda guarda per qualsiasi problema sono qui al mio numero mi puoi chiamare giorno e notte sono qui continuamente ok questa cosa un'aspettativa è sbagliata quando tu capisci che ti incasinerà nel futuro non solo perché questo è impossibile da fare ma anche perché non avrai mai modo di soddisfare quel cliente perché oggi hai dieci clienti ancora se ti chiamano più o meno contemporaneamente puoi rispondere al telefono se passano a mille quell'aspettativa la devi tagliar fuori perché non la puoi gestire più quindi la risposta breve è intanto eliminando le urgenze se derivano dai clienti dei clienti la risposta lunga è se le urgenze derivano da te stesso quindi nascono nuovi eventi in generale che sono legati magari al fatto che ok voglio fare questo progetto a cui ho pensato oggi abbiamo fatto una riunione ci sono nuove attività da pianificare il discorso è molto più complesso cioè non voglio banalizzare ci sarebbe appunto da fare uno studio specifico sulle urgenze perché lì ci sono delle tecniche specifiche per gestirle però dico subito bisogna tenere in considerazione un concetto un principio molto semplice che durante la giornata in realtà noi abbiamo sempre una energia che è decrescente quindi nel momento in cui io mi trovo a fare magari delle nascono delle attività difficili da fare tendenzialmente quello che dovrei cercare di fare anche se nascono oggi per domani non è farle immediatamente perché magari nascono alle 17 alle 14 e quindi la metà della giornata più produttiva la mattina io l'ho già dedicata alle attività che ho già svolto meglio spostare quell'attività che è sorta al giorno successivo alla mattina successiva o alle mattina e dai giorni successivi piuttosto che mettersi lì a lavorare perché magari in due ore di tempo si riesce a fare un'attività il giorno dopo che in quel momento se l'avessi fatta ci avresti messo quattro ore ottimo ottimo bisogna anche prendere in considerazione l'energia e quindi anche il funzionamento del nostro corpo e nostro organismo quindi e qui attilio praticamente hai iniziato a rispondere alla domanda di veronica che leggiamo qui dice quando hai più attività e se anche il genitore anche se programmi la giornata gli imprevisti e la stanchezza sono dietro l'angolo come li gestisci ed è quello che stavi proprio dicendo l'imprevisto con la stanchezza la sera sono troppo stanca anche per scrivere e la sensazione di non fare abbastanza mia sale ecco questo forse è un aspetto da definire sì rispondo io a veronica innanzitutto grazie per la domanda il innanzitutto non non è detto che le attività che tu dici che la sera non riesce a fare tu debba necessariamente farle la sera magari bisognerebbe lavorare un attimo nel rivedere la tua organizzazione perché ci potrebbero la sera il momento di base in cui abbiamo meno energia a prescindere da quello che succede durante il giorno quindi non è detto che la sera sia il momento giusto al di là di quello quello che per esempio noi insegniamo a fare i nostri studenti è quello di noi diciamo prevedere cioè gestire gli imprevisti però prevedere degli imprevisti ma come fai a prevedere gli imprevisti sono imprevisti non li puoi prevedere in realtà li prevedi nella pianificazione spesso il problema dell'imprevisto nasce per una sbagliata errata pianificazione cioè io mi pianifico di fare questo non considerando il fatto che tutto vada liscio che tutto vada per il meglio per esempio non con molte persone e questo è un consiglio che do subito così applicabile c'è una tecnica specifica che è la tecnica più due per due che noi insegniamo per gestire gli imprevisti e per capire quanto tempo ti prende ogni singola attività ma diciamo al di là di quello un consiglio che ti do subito è quello di non molti quando decidono sbagliano a decidere i tempi di un'attività quindi dice devo scrivere questa mail ci starò 10 minuti in realtà poi quella mail ti prende mezz'ora ti prende anche un'ora dipende che mail è magari una mail complessa di un cliente a cui devi fare attenzione qui l'errore è spesso non considerare tutte quelle attività di contorno che ci sono e che prendono in realtà tempo che sia anche uno due minuti tre minuti cinque minuti che in realtà vanno necessariamente fatte per arrivare a svolgere l'attività in sé cioè ti faccio un esempio se io dico devo scrivere una mail in realtà devo sedermi aprire il pc aprire il software l'email magari prevedere che il fatto che magari mi distraggo perché c'è un'altra mail che mi è arrivata nel frattempo pure urgente un cliente si lamenta per dire poi nel frattempo devo rileggermi quello che lui ha scritto formulare una risposta rivederla quindi non è detto probabilmente la mia testa sono 10 minuti in realtà ce ne metto 20 30 perché ci sono quelle attività di contorno che è anche solo la rilettura delle mail accettarmi che non ci siano errori rileggermi la sua aprire il computer che in realtà prendono tempo e io non lo sto calcolando se anche fossero solo 10 minuti sommati per tutte le attività diverse durante la giornata e anche a livello privato magari ci guarda devo mangiare che ci sono 5 minuti a mangiare problema è che poi lo devo riscaldare il cibo devo fare qualcosa del genere e quindi in realtà i tempi si dilatano e questo porta poi le persone ad essere insoddisfatte a fine giornata perché dicono cavolo devo fare 10 cose e ne ho fatte 3 in più ci sono state questo questo e quest'altro imprevisto mi è saltato tutto ottimo ottimo fantastico io l'immediato è non focalizzarti solo sull'attività ma focalizzati anche inizia a pensare non solo quanto tempo mi scrive scrivere la mail scrivere la mail significa scrivere la mail più rileggerla aprire il software andare a beccare nuovo la mail perché magari te la sei persa nel frattempo quindi sono tutte queste attività di contorno che ti prendono in realtà tempo quindi se poi non ce li hai perché immediatamente hai tutto già pronto meglio hai diciamo ci ha impiegato meno di quello che avevi preventivato ragazzi secondo me oggi abbiamo dato anche in in una mezz'ora veramente tantissimo valore sono cose verissime che tutti noi riscontriamo e che abbiamo bisogno di migliorare senza meno quindi ecco infatti però ne che dice mi sa che ci ci mancano le massaie no vi mancano le massaie e allora ragazzi io veramente vi ringrazio per il valore che abbiamo dato perché questa sera secondo me siamo riusciti a tirar fuori delle chicche delle tecniche degli strumenti che già di partenza così possono secondo me dare un grande aiuto su quello che è la gestione del tempo allora però questa sera ragazzi per chiudere abbiamo un'offerta che è chiaramente dedicata a tutti i membri appunto della community qua del gruppo funnel marketing formula di funnel company che appunto i ragazzi qui ci vogliono ci hanno voluto dedicare quindi ragazzi qui in descrizione troviamo un link lascio a voi la parola per dirci qual è questa offerta visto che avete scritto e fatto un sacco di cose diteci cosa possiamo dare per iniziare il punto di partenza per chi magari ne vuole vuole diciamo approfondire vuole un attimo approfondire tutto quello di cui abbiamo parlato chiaramente c'è molto altro è un libro di 380 pagine è proprio il nostro libro Cresci senza assumere con la prefazione di Alfio Bardolla è il libro che contiene veramente lo step iniziale lo step di partenza in cui già da solo veramente c'è gente che ha ottenuto ottimi risultati proprio grazie al libro stiamo aiutando veramente tanti imprenditori veramente con questo libro e che vi permetterà fin da subito se leggete chiaramente applicate ogni singolo concetto che trovate all'interno di avere un netto miglioramento subito iniziale sulla vostra gestione del tempo sulla vostra organizzazione sia a livello privato che a livello diciamo professionale fantastico e quindi qual è l'offerta? quello che abbiamo riservato esatto per funnel company per i membri del gruppo è dare il libro praticamente a prezzo di costo nel senso che il libro considerate che è un prezzo di listino di 37 euro su Amazon perché è un mattone? quanti pagine? sono 383 pagine anche se vi dico si legge veramente in una giornata cioè in senso è molto scorrevole non vi spaventate da questo è fatto apposta tuttavia vi dico che appunto solo per voi avete la possibilità di prenderlo solo a 13,99 euro più IVA fantastico tramite appunto il link quindi praticamente prezzo di costo proprio la spedizione semplicemente questo così che possiate iniziare fin da subito risparmiando praticamente più del 50% a mettere le basi per la vostra gestione del tempo e avere un netto miglioramento fin da subito bellissimo quindi ragazzi cliccate sul link che trovate qui in descrizione per scaricare il libro cioè per ricevere il libro in copia cartacea fisica a casa vostra di 380 pagine che secondo Nicola si legge in un giorno sentiamo cosa dice attivi 5 bonus no volevo aggiungere che appunto c'erano questi 5 bonus aggiuntivi che sono più di 3 ore di formazione gratuita che noi appunto abbiamo dato con l'acquisto del libro quindi tu non compri solo il libro compri il libro più 3 ore di formazione quindi fantastico sulla gestione del tempo che lavora veramente su tanti aspetti volevo tanto diciamo leggervi proprio allora nel frattempo abbiamo facebook user che dice già comprato è appena arrivato molto bene e poi c'è un altro facebook user purtroppo non vedo il nome dice basta che non ci siano solo figure ecco probabilmente è per quello che si legge in un giorno no 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 aprilo aprilo così aprilo dai facciamo vedere se c'è scritto qualcosa vediamo ecco c'è scritto è vero è reale non è vuoto è reale non è scritto neanche tanto piccolo non è scritto neanche né troppo grande né troppo è giusto impaginato in maniera professionale ma appunto importante una cosa che non è da sottovalutare è che mentre per dire su Amazon su solo il libro attraverso questo link oltre a prenderlo a prezzo di costo avete anche la possibilità di avere appunto questi cinque bonus sono cinque materiali aggiuntivi che potete avere solo tramite il link che vi fornisce appunto Alessandro che vi aiutano fin da subito nel frattempo che ricevete il libro vi permettono di suggerire di applicare iniziare bellissimo bellissimo guarda qui c'è un altro facebook user che dice comprato il libro e loto perfetto grazie perfetto molto bene e dentro quando devi fare queste ore di formazione bonus non c'è una scadenza non c'è scadenza sono dei videocorsi e poi studi quando vuoi accessibili a qualsiasi dispositivo quindi cellulare computer da ovunque esattamente comprato il libro e auto fantastico confermo io l'ho visto sono Katia De Nuzzo ciao Katia ciao ciao Katia ciao Katia allora io innanzitutto ringrazio voi Nicola Attilio per aver condiviso queste informazioni di grandissimo valore ringrazio tutte le persone che sono state qui con noi che ci ascolteranno nel tempo quindi mi raccomando ragazzi focus sulla gestione del tempo se volete migliorare quelli che sono diciamo i risultati sia nella vita privata che nella vita professionale quindi il primo step come abbiamo visto è proprio quello del libro e questo è quello che suggeriamo sempre quindi ragazzi mi raccomando grazie ancora seguite questi due rockstar della gestione del tempo in Italia perché chiaramente basato sul medio italiano e ci vediamo nelle prossime dirette ragazzi grazie ancora e alla prossima grazie Alessandro buona serata saluti a tutti ciao ciao a tutti ciao